Oggi mi tocca ammettere che ho fatto un po' un fail, ma l'idea è più che buona e confido in voi per poter portare avanti questo progetto. E scherzo ragazzi da Omega e Ben ritrovati qui con noi su HMC Magic Masters, ho voluto cogliere una sfida che mi è stata lanciata qualche tempo fa, un bel po' di tempo fa a dire il vero, ma eccoci qua con tutto il dovuto ritardo del caso a parlare di un ipotetico commander senza land, look ma no lens. Allora, ve lo ripeto, è abbastanza un fail perché ho fatto molte prove e ok il mazzo funziona, ok è anche studiato abbastanza bene, ma devi partire con la mano buona, con la mano dipinta, devi riuscire ad avere almeno 2-3 mana per poter giocare e purtroppo non è una cosa che si verifica sempre. Ci vogliono oggettivamente tantissimi Mulligan, quindi signore e signori io ve la butto lì, ve la propongo così, visto che comunque è una cosa che mi avete chiesto voi. Poi innanzitutto arriviamo a 50, like per questo video e insieme nei commenti proviamo a migliorare, a far funzionare questo mazzo. La comandante che ho scelto è El Sha of the Infinite, costo 5, prodezza 3-3, possiamo guardare la prima carta del nostro Grimorio in qualsiasi momento e possiamo lanciarla se è una carta non creatura, non terra e possiamo farlo soprattutto come se avesse lampo. Nel mazzo ci sono parecchie carte che ci fanno fare la stessa cosa, magari non a lampo, l'idea mia, l'idea iniziale, l'idea che voglio portare avanti è quella di fare uno storm, una sorta di storm, andare a chiudere di mitragli, empty the warrants o carte simili o mano infinito. Adesso andiamo a vedere bene o male tutto. Ho diviso tutto in settori, partiamo con i mana ramp. Abbiamo un classico arcade insignia che è diventato un must have dei commander al tar di Ashnod perché andiamo a fare delle pedine creatura che sono sacrificabili, cornucopia astrale, monolito di basalto, naturalmente ho inserito monolito, green monolith e mana vault per andare a fare mana infinito, classico power artifact. Chromatico horror di carta che ho imparato ad apprezzare giocando historic, sfera cromatica e stella cromatica, tanto belle ci fanno pescare e ci danno mana. Ho inserito tutti i mox giocabili in commander, tranne il qui presente mox diamond, perché naturalmente non abbiamo lande da andare a scartare. Quindi andiamo a giocare il bellissimo chrome mox, andiamo a giocare mox opal, mox amber e mox tantalite. Naturalmente andiamo a giocare i vari riti rossi, quindi rituale disperato, piretic ritual, rite of flame e sitting song, e perché no includiamo in questi riti anche il vessel of volatility. In questa sezione ho incluso anche carte che riducono il costo delle magie che andiamo a lanciare, in questo caso abbiamo ethereum sculptor, foundry inspector e famiglio di gioira. Everflowing calice, una carta che possiamo andare a potenziare per fare più mana. Abbiamo una new entry direttamente dalla bellissima Strixhaven, spero abbiate visto il twerker box molto molto particolare. Galazet prismari è interessante in questo mazzo, 3-4 volante, quindi anche abbastanza aggressiva. Quando entra fa un token. Gli artefatti che controlliamo possono essere tappati per prendere mana. Possiamo purtroppo usare quel mana solo per instant e sorcery, ma è già qualcosa, è già un aiuto. Abbiamo poi gilded lotus, abbiamo già parlato prima di grim monolith, helm of awaking, sempre per quanto riguarda il discorso del ridurre i prezzi, i costi di mana delle carte, jeweled amulet, anche qui mettiamo segnalini e andiamo a toglierli per fare mana, jeweled lotus, che ci viene utile naturalmente per castare la nostra comandante, e non meno importante lion's eye diamond, madonna quanto costa questo mazzo. La led è tanto importante anche perché appunto abbiamo modi di rifare tutto dal cimitero, continuando a fare spell, continuando a fare storm, comunque riutilizzando magie già riutilizzate. Lotus bloom, tanta roba per ad nauseam. Lotus petal naturalmente, mana clip, mana clip, mana clip che è il ramp per eccellenza. Mana geyser che ci dà un mana rosso per ogni landa tappata controllata dagli avversari. Di mana volta abbiamo già parlato dei mox, abbiamo già parlato. Paradise mantle, interessante, le equipaggiamo e le nostre creature danno mana. Altra di Phyrexia, stesso discorso di prima, abbiamo delle creature da sacrificare, delle piccole pedine. Prophetic prism, un'altra carta molto famosa e molto 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 forte. Scimmia, spirito guida per ottenere un mana così da zero. Skirk prospector che può essere interessante, lo piazziamo lì e quando ci fa comodo lo sacrifichiamo per andare a prendere un mana aggiuntivo. Naturalmente Solring, e qui non si può discutere. Taw Vessel che oltre ad aggiungerci mana fa sì che non abbiamo un numero massimo di carta in mano, anche se ne avremo poche di carta in mano perché per lo più giochiamo dalla cima del grimorio e dal cimitero. E andiamo a chiudere il reparto a ramp con Trasonous Ogre che, insomma, se viene giù paghiamo tre vite, aggiungiamo mana rosso, è mediamente forte, è tanto forte. Andatevi a vedere la mia deck tech del mio full foil Godo per vedere quanto è importante questa carta. Ho creato questa sezione Play from Library, Gravyards and For Free, quindi giochiamo dal grimorio, dai cimiteri e a gratis. Sono appunto carte che fanno una cosa molto simile a quello che fa la nostra comandante o comunque che ci danno altre vie, altri modi per lanciare spell che non siano dalla nostra mano o gratis. Partiamo quindi con un Ez for Told, un incantesimo molto interessante, che ci dà comunque quella spell in più ad ogni turno che può essere utile. Experimental Frenzy, molto molto bella anche se. Pericolosetta, Gustas Shepter per rifarci letteralmente la mano in caso di bisogno. Gorgia, mistica anche lei, penso ormai la conosciate tutti, è una carta che negli ultimi tempi secondo me è diventata molto importante, soprattutto se giocate ad arena, se siete in ambito anche historic. È carina, carina, carina. Oracles, Volt, innanzitutto amo l'immagine di questa carta, ma poi ci permette di prendere delle carte, di togliere delle carte, di manipolare un po' il mazzo e di lanciare spell gratis. Peef, Past in Flames, per andare appunto a dare flashback a tutte le carte nei nostri cimiteri, stessa cosa fatta da Underworld Breach, non uguale ma molto simile. Andiamo a chiudere questo reparto con Vadrok Apex of Thunder. Allora, ho inserito delle creature che in realtà non sono poi così utili allo stile storm del mazzo, anzi probabilmente se ce le becchiamo in cima al grimorio ci bloccano letteralmente, perché non possiamo andare a lanciarle o toglierle in qualche modo e andiamo a fermarci. Però sono quelle utilities che danno quel tocco aggro, che mettono quella paura, che in alcuni casi può venire buono e creare pressione negli avversari, che è sempre una cosa molto importante. In questo caso, quando questa creatura muta, possiamo lanciare una carta non creatura, con costo di mana 3 o meno dal cimitero senza pagare il costo di mana. È una carta in più, è un permanente in più ipoteticamente. Deck Manipulation and Draw. Ho creato questa unica categoria che include i peschini e la manipolazione del mazzo, perché oggettivamente in questo mazzo fare un peschino non vuol dire avere una carta in più, ma vuol dire togliere una carta che non ci piace dalla cima del mazzo. Quindi Ancestral Vision per andare a pescare 3 carte. Codex Shredder. Conoscere te sicuramente questa carta ci permette di macinare una carta da un Grimorio e soprattutto possiamo anche riprenderci una carta dal cimitero. Gitaxian Prove. Guardiamo la mano dell'avversario e peschiamo. Lantern of Insight. Notare la presenza sia di Lantern che di Codex. Ricordiamo il vecchio Lantern combo da Modern. Bola di Mishra. Peschino, semplice, efficace, costo zero. Inoltre ci fa anche guardare la prima carta di un Grimorio. Ci può venire buono. Abbiamo poi ovviamente la K delle Profezie del Sensei, che è la manipolazione del mazzo perfetta in Commander. Treasure Cruise. Anche con lei andiamo a pescare 3. E Bola di Urza. Anche lei è un peschino a costo zero. Reparto Counter e Rimozioni. Allora, sì, ok, sono Counter e Rimozioni, lo ripeto. Ma per lo più queste carte sono dei costi bassi, costi zero, che possiamo andare a lanciare anche con Mana Firexiano e che quindi vanno via facilmente dalla cima del Grimorio, dalla nostra mano. Alcune usatele con cautela. Sto parlando naturalmente di Calice of the Void e esplosivi ingegnerizzati che potrebbero rivelarsi controproducenti. Giochiamo un mazzo strano, usiamo il cervello. Piuttosto buttiamole giù e togliamole, non lo so, ragazzi, state attenti. Abbiamo poi Gutshot per fare un danno a un bersaglio. Abbiamo Maru Shards per fare un danno a ogni creatura attaccante e a costo zero. Non è neanche così brutta. Mental Misstep che toglie Solring. Toglie Solring, punto. Cioè, l'anda Solring, ok, Misstep e io piango. E Pyrite Spellbomb, che è una buonissima carta, secondo me, in questo contesto andiamo a fare due danni e o a pescare. Win Conditions, la tattica di questo mazzo, ripeto, è andare a lanciare carte dalla cima del nostro remorio e o dal cimitero per andare a creare un mega storm e chiudere di mitraglia o cose simili, ma abbiamo anche altre tattiche. Una di queste è Aetherflux Reservoir, che ci permette appunto di guadagnare tante vite, pagare 50 vite e fare 50 danni. Può essere interessante se andiamo appunto a fare tante magie nello stesso turno. Naturalmente Empty the Warrens per fare tanti bei gobelini. Goblin Charge Belcher. Ci sta. Non è essenziale, è già una di quelle carte sostituibili. Ma secondo me potrebbe rivelarsi una chiusura? Perché no? Ditemi nei commenti cosa ne pensate. Ovviamente, come dico da inizio partita, mitraglia. Ho poi inserito questo bellissimo sprite dragon, questo drago spiritello a costo 2-1-1, con volare e rapidità, che quando castiamo una spell non creatura, prende un segnalino più 1-1. Può diventare bello ed è rapido. Tassas Oracle, perché, ripeto, c'è la possibilità di lanciare tutto il mazzo così come ridere, quindi andare a chiudere con il trigger TB di Tassas Oracle e Walking Ballista, perché in caso di mana infinito è sempre la soluzione migliore. Classic combo for infinite mana with dorks. Essenzialmente, ragazzi, in questa sezione ho messo il Power Artifact per andare a incantare Grimm e Basal Monolith e scettro isocrono con Dramatic Reversal che va sempre a stappare i nostri permanenti non terra e quindi con delle dork a fare mana infinito. E ragazzi, siamo quasi alla fine. Ora vediamo tutte quelle carte che hanno ovviamente lo scopo appunto di stormare, magari perché sono a costo 0 o comunque a costo basso o comunque delle carte che vengono utili con un mazzo del genere perché fanno cose con gli artefatti, perché fanno cose quando vengono lanciate magie o semplicemente perché sono buone carte. Quindi andiamo a concludere questo mazzo con una Angel's Grace che è tanto utile perché giochiamo anche dei patti qui dentro e quindi non ci fa perdere la partita. Birgi, God of Stortelling. È molto forte. Questa è un plus per la tattica Storm. Se lei è in campo abbiamo infinite possibilità in più di andare a chiudere con la tattica principale del nostro mazzo. Rebers, Purs è un costo 0. Chimerick Mass stessa cosa e può essere animata con X o segnalini quindi è anche una creatura, casi estremi. Copy Artifact può venire buono in 150 milioni di miliardi di situazioni. Dark Sphere, una carta che usavo in un commander combo troll con Maralen qualche anno fa e di mezzo ai danni provenienti da una fonte. Emry è un'ottima creatura, costa poco e ci può far recuperare un artefatto dal cimitero. Fontein of Yowf, yo, 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 yo. Vi faccio guadagnare punti bit appagando due tappandomi, yo. Ok, va bene. Poltiglia d'erba, non facciamoci domande su questa carta, comunque ci permette di rigenerare una creatura ed è un costo 0. Abbiamo poi Intervention Path, preveniamo i danni e ripeto. Attenzione, teniamoci buona, Angel's Grace. Comunque è un costo 0. Magari nel turno in cui sappiamo che andremo a chiudere, chi se ne frega. Joyra, che innanzitutto è molto molto sexy e poi ci fa pescare ogni qualvolta lanciamo una magia historic, quindi artefatto, leggendaria o saga e ne giochiamo giusto qualche duna in questo mazzo. Kikar Wins Fury, questa carta mi piace davvero un casino. Perché? Perché quando lanciamo una magia non creatura ci fa fare uno spirito 1-1 con volare e già lì abbiamo anche ipoteticamente un piano agro. Inoltre sacrificando uno spirito, spiriti che produce lui stesso, possiamo aggiungere un mana rosso. Ditemi se questa carta non è sensazionale, soprattutto in questa situazione. Lightning Graves, per coprire eventualmente una nostra creatura, che sia il comandante o che sia uno di loro, perché no? Mizium Trans Reliquat, copia gli artefatti. Ci piace. Questa Narset mi piace un casino perché fa un po' tutto quello che ci serve. Fa anche guadagnare vite, ma soprattutto aggiunge mana, ci fa pescare la finisher. Vabbè, ok, ma è molto interessante. Norn Annex, per evitare attacchi dalle creature nemiche. Pact of the Titan, per mettere un titano, un 4-4 a velocità istantaneo. E comunque, ripeto, è un costo zero. Sai, Master Top Trist. Solito concetto di prima, andiamo a fare creature, perché no? Ogni qualvolta lanciamo una magia artefatto e ci fa anche pescare, quindi ci toglie carte dalla cima del grimorio in casi estremi. E il che è tanto importante. Silence, I Kill You, una carta che non fa giocare gli avversari durante questo turno, quindi possiamo andarla a lanciare, non so, in un turno pericoloso, che sia quando noi andiamo ipoteticamente a vincere o quando i nostri avversari stanno per, boh, scombare o fare qualcosa di molto, molto brutto per noi. Abbiamo poi una Spellbook, che è una bellissima carta a costo zero che dice che non abbiamo limite di carte in mano molto forte, molto, molto forte. Sunbin, Spellbomb, ci fa o guadagnare vite o pescare. Ritta di Tormod, costo zero, è molto utile per togliere i cimiteri che sappiamo quanto sia una tattica strausata ormai in tutti i formati di Magic the Gathering. Trash for Treasure, come costo addizionale, sacrifichiamo un artefatto e rimettiamo un artefatto in campo dal cimitero. Turnabout, costo quattro, scegliamo di tappare o stappare tutti gli artefatti, creature o terra controllati da un giocatore, possiamo essere noi come non possiamo essere noi. Urza, immancabile, fa dare mana agli artefatti e crea un artefatto in più quando entra. Inoltre ci fa anche lanciare le spell a zero. Nulla di importante, ma è lì e chiudiamo con la jarra delle saldature per rigenerare i nostri artefatti. Signore e signori, adesso vi faccio scorrere qualche mano iniziale nel mentre faccio due parole con voi. Come vedrete, non è un mazzo facile da giocare per più motivi. Innanzitutto perché non è stato facile costruirlo e non è un mazzo in generale facile da costruire con questi colori, con questa tecnica, con tutte queste cose. Inoltre è un mazzo che anche se per qualche motivo, perché abbiamo pescato la mano di Gesù Cristo, ci permette appunto di partire, di iniziare a giocare. È un mazzo molto, credo che cervellotico sia il termine giusto. Perché appunto, ok, possiamo partire bene, ma dobbiamo veramente, veramente, ma veramente tanto imparare a dosare le nostre azioni, imparare a dosare il mana e a conoscerlo bene. Dobbiamo proprio provare, 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 perché magari c'è sempre quel trick che non conosciamo, che non riusciamo a padroneggiare da subito, dobbiamo veramente testare per riuscire a giocare un mazzo così. Quindi, prima ancora della progettazione viene un po' di esperienza, un po' di testa e se soffrite di micrania non giocate una roba del genere. Molto bene, signore e signori, siamo in chiusura. Cosa ne pensate? Follia? Follia pura? Sì, lo so, ma tentiamo di trasformare insieme questa follia in un qualcosa di sensato. Vi ripeto che ci ho messo veramente del mio, ho cercato di creare una sinergia, ma è difficile, è parecchio difficile, io ho tanti anni di esperienza e creare un commander senza lande. Soprattutto con questa comandante, mi avete sfidato voi e io ci ho provato. Commentate, commentate, commentate e proviamo a costruire qualcosa di furbo. Facciamo che se raggiungiamo, perché no, una quadra che mi piace, che mi soddisfa, io provo a montare questo mazzo. Mi raccomando ragazzi, vi ricordo ancora di lasciare un bel like qui sotto, arriviamo almeno 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 a 50, sì dai che ce la facciamo. Vi invito naturalmente a visitare tutti i nostri social, trovate un link unico in descrizione e ringrazio tutti quanti per le donazioni e per supportarci su Moxifans. Ciao a tutti da Omega, grazie e alla prossima.